A chiamare i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto sono stati medici ed infermieri del suo M118 intervenuti in un'abitazione per lo stato di alterazione di un 55enne. Una volta sul posto i militari dell'arma si sono trovati di fronte ad una sorpresa inattesa. In una stanza della casa era stata ricavata una mini serra con sei piantine di marijuana, con relativa lampada, luce artificiale e ventilatore. Ma proprio scollegando queste apparecchiature dalla rete elettrica, i carabinieri si sono accorti dell'esistenza di un possibile allaccio abusivo. Così è stato allertato anche il personale della società distributrice di energia, che ha verificato come i collegamenti elettrici si indirizzassero verso i piani alti dell'abitazione. E proprio accedendo mediante una scala attraverso una botola alla soffitta della casa, ecco l'ulteriore scoperta. Un vivaio con 75 piante di marijuana immersi in acqua, ventilatori, pareti isolate e lampade da 600 watt, il tutto abusivamente allacciato a monte del contatore. Al termine degli accertamenti, il 55enne e la convivente 50enne sono stati indagati con l'ipotesi di reato in concorso, di furto aggravato di energia elettrica e la violazione in materia di stupefacenti.